Vabbè, ma anch'io quando faccio la poetessa, insomma, alle casse del supermercato, perché ai poeti gli capitano queste cose, è vero? Perché tu ti sei poi cimentato in questo tipo di scrittura che io per esempio non capisco? E' un problema mio, però lui trasmette di tre biglie, poi ci spiega cos'è lei, perché io l'hai già spiegato tre volte e non l'ho ancora detto, è un problema mio, in tre righe mi fa a caponare la pelle, quindi trasmette un'emozione veloce, un fulgine. Quindi adesso tu ci spieghi, io ti ho presentato, Claudio Spinosa. Claudio Spinosa. Il suo Vangelo, Sansara.